Abbiamo quindi da programma l'intervento del Ministro De Vincenti che ci ha mandato un saluto che proponiamo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito ad essere con voi, purtroppo per motivi istituzionali in questa fase anche di transizione politica non posso essere oggi con voi ad Acceglio, la cosa mi dispiace prima di tutto perché la strategia dell'area interna è una strategia centrale nell'azione del governo in questi anni abbiamo dedicato molta attenzione, molta energia allo sviluppo di questa strategia e poi perché, confesso, Acceglio si trova in una zona di montagna molto bella io sono appassionato di montagna, quindi mi sarebbe piaciuto molto venire nella vostra valle. Una strategia, quella delle aree interne, che dicevo centrale nell'azione di governo perché intende invertire una tendenza che si trascina a tanto tempo allo spopolamento dei territori, alla rarefazione dei servizi essenziali, alla perdita di attività economiche perché in realtà le aree interne possono essere una ricchezza del nostro paese e restano e devono sempre più esprimersi come una risorsa di modo di vivere, di relazioni umane, di relazioni sociali che ci dicono che è possibile una società basata di più sui rapporti interpersonali. Ecco, quindi la strategia delle aree interne vuole essere non solo un'occasione di ripresa e di sviluppo per le aree interne del nostro paese ma anche vuole valorizzare dei valori, scusatemi la ripetizione, dei valori forti del nostro paese, degli italiani pur nelle differenze tra i diversi territori ma che hanno in comune questo stare insieme e questo saper stare insieme La strategia delle aree interne si basa sul coinvolgimento di diversi attori e livelli di governo ben dieci ministeri, le regioni, i comuni, l'associazione dei comuni, i gruppi di azione locale in genere i portatori di interesse sul territorio con il fondamentale coordinamento svolto dal Dipartimento per le politiche di coesione e dall'Agenzia per la coesione territoriale a supporto di questa strategia via via negli anni, negli ultimi anni abbiamo stanziato risorse crescenti Oggi, dopo l'ultima legge di bilancio, quella per il 2018, siamo arrivati a oltre 280 milioni di euro che si rivolgono a 72 aree, che coinvolgono circa 1.000 comuni e circa 2.100.000 abitanti Queste risorse che abbiamo messo con le leggi di bilancio muovono poi altre risorse intorno a loro mettiamo insieme nelle strategie che abbiamo definito, finora 23 strategie mettiamo insieme altre risorse, fondi strutturali europei, fondo sviluppo e coesione e così via e arriviamo a mettere in moto sulle 72 aree ad avere risorse disponibili per interventi per circa un miliardo di euro di investimenti Al centro della strategia una azione di codecisione con i territori interessati, con le comunità locali conforme al programma nazionale di riforma pensiamo alla centralità del paesaggio, ai processi associativi e di riordino al territorio locale alla promozione di progetti di sviluppo e per fare questo servono azioni mirate che abbiamo definito nelle strategie già varate e stiamo definendo in quelle che sono in corso di preparazione azioni mirate su due terreni principali da un lato i servizi alla popolazione e quindi quelle condizioni di contesto che consentono per esempio ai nostri giovani di farsi un piano di vita anche in un'area interna anche magari nel territorio di origine e per questo è necessario che sviluppare scusatemi servizi sanitari che diano sicurezza su quel territorio, agli abitanti servizi scolastici che consentano ai bambini e ai ragazzi di frequentare scuole adeguate per esempio superando il fenomeno delle delle cosiddette scuole multiclasse sistemi di trasporto che consentano ai cittadini delle aree interne di essere collegati facilmente con il resto del nostro paese e molto importante un tema a cui abbiamo dedicato grande attenzione in questi anni l'infrastrutturazione informatica in particolare portare la banda ultralarga nelle aree interne a questo abbiamo dedicato una parte decisiva del programma del piano nazionale per la banda ultralarga e abbiamo attraverso Infra il fatto le gare per le cosiddette aree CD quelle diciamo si usa dire a fallimento di mercato cioè dove gli operatori di telefonia non vanno spontaneamente ebbene abbiamo fatto queste gare abbiamo assegnato il ruolo il compito di costruire la banda ultralarga anche nelle aree CD che molte delle aree CD sono proprio aree interne del nostro paese e questo quindi il settore servizi per la popolazione e anche penso per esempio a trasporti e banda ultralarga anche per le attività produttive perché è chiaro che le attività produttive nelle aree interne hanno bisogno poi di collegamenti informatici connettività e di collegamenti materiali di trasporto con con i mercati di approvvigionamento e di sbocco e dall'altra gli interventi per le attività produttive perché noi dobbiamo fare in modo che per i giovani delle delle aree interne ci sia una prospettiva di lavoro perché ci sia una prospettiva di vita ci deve essere anche una prospettiva di lavoro oltre ovviamente al rilancio dei servizi di cui parlavo prima e quindi molta attenzione allo sviluppo del settore agricolo alla creazione di centri di competenza all'intercettazione di nuovi segmenti di turismo nuove modalità di turismo adatte alle aree interne e sviluppo anche di attività industriali perché in alcune di queste aree interne abbiamo delle vocazioni industriali molto forti insomma una strategia complessiva attività produttive e lavoro servizi e qualità della vita per la popolazione delle risorse che abbiamo stanziato circa il 40% è dedicato ai servizi e il 60% allo sviluppo delle attività delle attività produttive appunto bene dobbiamo a questo punto fare in modo che questo potenziale che abbiamo messo in campo come si usa dire con un'espressione che va un po' di moda oggi si scarichi a terra e quindi dobbiamo fare in modo che quelle potenzialità espresse dalle comunità locali proprio dai cittadini dei territori dalle loro istituzioni comuni sindaci si possano trasformare in vere e proprie azioni per lo sviluppo sul territorio questo significa che le strategie che abbiamo firmato devono diventare al più presto accordi di programma quadro qui dobbiamo operare una velocizzazione non ci nascondiamo che abbiamo alle volte dei rimpalli di competenze tra le amministrazioni che dobbiamo assolutamente superare dobbiamo superare un po' di consentitemi usare questa espressione farraginosità delle procedure in modo che possiamo semplificare la firma la procedura di conclusione e firma degli accordi di programma quadro e sbloccare le risorse perché vengano utilizzate per gli interventi gli investimenti che abbiamo disegnato che avete disegnato prima di tutto voi comunità locali naturalmente con il supporto delle amministrazioni centrali a cominciare dal dipartimento e dall'agenzia è un grande sforzo strategico che dobbiamo fare naturalmente io sono in questa fase in una condizione ministrusciente ma finché sarò in carica seguirò con grande attenzione la strategia ma soprattutto lasciamo al prossimo governo una strumentazione e risorse importanti che non devono essere sprecate sarebbe un delitto se questa se questa azione che abbiamo impostato dovesse interrompersi ma io ho fiducia che l'importanza della strategia e il ruolo che le comunità locali nella strategia giocano consentiranno di tradurre fino in fondo in pratica le strategie che abbiamo definito e consentiranno di utilizzare le risorse che abbiamo stanziato per ridare un nuovo futuro alle aree interne del nostro paese grazie per l'attenzione buon lavoro e faremo tesoro dei frutti delle discussioni e dell'elaborazione di queste giornate ad acceglio grazie e buon lavoro a tutti grazie